Non è stata troppo l'altra L'ultimo com'è morto? Con un'altra mina Io con un'altra mina No ma E' stato bellissimo Ok questa è la mia prima esperienza Vediamo come andrà adesso la prossima Andrà malissimo No andrà malissimo Vi dà fastidio ragazzi se registro le partite? No No è un problema Però io devo andare tra poco quindi Non so possiamo fare ancora una partita Oppure devo andare No perché No no giochiamo Tanto io devo fare un po' di test prima Tanto poi lo caricherò su youtube Farò le live su twitch Vedrò un po' Ok 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 Qualcuno mette la mappa che io non so come si fa Ottimo La mappa Eh mousse Basta che scrivi mousse Sì no però non ci capisco una sega Siamo super Una nuova Siamo super iper organizzati Perfetto La mappa c'è Prendo due Toccia Siamo nel meglio E di non morire in Ok Ma quindi No dobbiamo partire Prima Ecco ora siamo partiti C'avete torce tutto? Ehm no Una torcia l'ho ordinata Vuoi che ce l'ho qualcuno? Io non ce l'ho Allora è inutile che sto qua Allora uno che Forse uno dovrebbe portare la mazza Ah sono una torcia più te Quello Vabbè lo prendo io Dai Vai Andiamo Ok Aspetta che c'è una torcia più te Allora qua non ci sono mai stato E dovrebbe arrivare il raggio No quale raggio? È arrivato là dietro È arrivato là dietro È una torcia Che non ce l'ha Che bella Sai che sente la musichetta? Eh sì È la consegna LOL Sì 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 Sto arrivando Ah ok no C'è una lì e una lì davanti C'è Siamo da lì Dove è finito il quarto? Sono qui sotto e non ho visto la sca L'ho vista È la madonna Che ingresso de me Vabbè No Aia Sei caduto? Sì faccio schifo Sembra strano Che c'è solo una via Possibile? È importante che non muori È fantastico sta cosa Ma perché non ha Ah ora salta Ok Ero senza energia Ecco perché Ora ho capito Riproviamo di nuovo Mamma mia Mo se moro per un altro salto È bellissimo raga Allora Ma è fattibile una cosa del genere Uh Ce l'ho fatta Ah eccoci Maronne Aspetta dammi Vabbè io Io intanto porterei Cioè Ah te Prendi anche questo allora Prendi anche questo Io vado dentro allora Vai Questo lasciamo qui? Sì Poi dopo l'ho portato Ok Sono qui Oddio Let's go Ma ne hai mai giocato questo gioco? Sai qualcosa? Allora No Allora ho visto qualche gameplay Ma da americani Però È qualcosa di folle Attenzione Mine Come se si abbassava? Con contro Ok Mi piace stare incontro Perché non fa rumore Ai tuoi passi No 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 E appunto Solo che non so come si affrontano I nemici Oh neanche io Neanche io Quindi si urla E si scappa Ah Quello sì Ok Attenzione Attenzione C'è qualcosa che mi sta identificando Oggetti Calchio No deve essere lei Aspetta Ma non c'era una ragazza con noi Oddio ma Porca di quella Che bello Aspetta La faccio prima uscire La faccio prima uscire Con il resto Allora vieni Vieni Sì Vieni Ma io avevo prima trovato Il maledetto incetto Quello Che quando ti sei avvicini Ti diventa enorme Ti ammazza E mi sa che non hai sentito Segui lui Così almeno ti porta fuori Oddio Finito la batteria della torcia Ah Perché ci sono I batteria della torcia C'è qui Eh sì c'era l'elettricità Cazzo qualcuno che c'è una torcia davanti Ahia Eh non tro Che hai fatto Ci ho provato Ah appunto Guardi aveva pure l'unica torcia Ce l'hai la torcia tu? Eh sì una torcia ce l'ho Ah ok allora dammi mail Oh Dio Oh Dio Balla No 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 Usa Eh usala E tu avanti Non ho il coraggio per andare avanti Non sapevo che si poteva salire Sì c'è un'altra torcia E' di lì? Può andare Va Va Oh Può 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 No qua 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 Cos'è? Ho perso Dietro dietro Va Qua cosa c'è? Ah eeeh L'incetto Quello che se ti avvicini Diventi Diventa enorme Ma qua c'è? Non qua ma Go Credo che I nemici Spottano a caso Cioè Forse Let's go Ti metto a me Ok Ok Qua non c'è nulla Credo Ma chi è un colto delta? Quella sotto è un piccolo ceco Ma che c'entro io? Perché mi è un volto e bovo Ah sei già venuta qua Sì Ah c'è un cookie mold No aspetta lo prendo io Allora Ora qua ci dovrebbe essere insetto Quindi dobbiamo fare tanta attenzione Vabbè ma quello se Non Non gli vai vicino Sì Guarda la Coca Cola Oh bene Devo darla a me O un ultimo posto Aia Insetto 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 Vabbè Eh mi sa di che non posso Mi spiace Sì No Non pensavo No L'è stata ammazzata Ancora lì No Oddio Ok No 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 vabbè dai Ha portato l'insetto Nella struttura Serve la mazza Per abbatterlo Mazza Ok No Mamma mia Mamma mia Aia No No E' un piccolo cieco No Lasciami stare Lasciami stare Vai a cagare Ma vai a cagare Ma vai a fa culo Ok Basta che li lasci a me Ah Vabbè è possibile che sono tornato davvero prima Dove bisogna andare Qualcosa però sto agli davanti Vedo le antenne Dove bisogna andare Dove bisogna andare Sono ciali 9 e mezzo Sono ciali 9 e mezzo Come 9 e mezzo Ah Non si vede nulla Ok Ti senti? Oh Vieni 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 E' stata la cosa più brutta Della mia vita Madonna T'avevo visto muori tutti Ma poi io te l'ho trasportato Uno ma Ma te l'ho trasportato pure il mostro Nella navicella Eh infatti perché c'aveva in faccia la cosa Non avevo la palla per aiutarlo Ci sta ci sta Vabbè è andata così Però che ci sei salvato Eh va sempre così però eh Oh resto dai Ti portato si un po' di merda almeno Eh ti lascio la torcia Eh me ne vado che devo andare a mangiare Scusami è stato un piacere Non è più Ciao caro Buona Buona partita Almeno un c'è Almeno un c'è Vi abbiamo presa mamma mia Vabbè non sapevo Via E ordiniamo chi c'ha torcia Con te La torcia la tengo io Quanti soldi c'abbiamo? 13 soldi Non si può comprare un cazzo Peggio di fasomofobia sto giovane Ma è scarica sta batteria No non è che è scarica No Eh caricala lì Dove? Qua Qua si caricano tipo le torce E i walkie dog Uh non lo sapevo Allora andiamo a Andiamo a Andiamo a O'France Dove andiamo? Cosa vuol dire foggi O'eclipsed No Sì che tipo C'è tipo Come Ebbioso Eclipsed Tipo Un'eclipsed Ok O'andiamo a France Vediamo un po' Dai Vediamo come andrà a finire Questa volta Il problema è che siamo pure in tre Quella è la cosa comica Non voglio morire di nuoto A quel coso subumano Beh L'hai preso in faccia L'insetto Voi davvero Ti ho preso in faccia Mi sono ritrovato Nella navicella Per qualsiasi cosa Si deve Ok ma siamo Andiamo tutte tre O in due E uno si rimane là Eh Senza Walkie È un po' inutile Io non si walk No il walkie Sta qua Eh Sì no però Dovrebbe averlo anche un'altra Eh Si va in coppia E vediamo come si evolve la cosa Volete andare voi due Ci proviamo Io rimango qua come volesse No vengo anch'io Ci proviamo Aspetta il walkie talkie l'hai preso Il walkie talkie Ma tanto non c'è Non ce l'ho Tu non ce l'hai Ah E là non lo so Ecco qua Vabbè Vabbè Se lo troviamo qualcuno Lo portiamo Se no boh Allora se Però scusami Lascialo qua Lascialo qua al walkie Sì sì Lascialo qui a sto punto Vediamo un po' dai Rimani per sicuro Io controllo un po' la sito Poi Tieni la porta chiusa Tieni la porta chiusa Che a volte E' una brutta bestia Buona fortuna Eh Buona fortuna In bocca al lupo In colabana E' la iena Speriamo di non morire Ho di trovare Una mine di sclopote Allora qui Non si può andare Da dietro Già abbiamo sbagliato strada Fantastico E' lì? No no Si era di là No no E' muro Di là di là Allora Di là Andate Vabbè Allora ragazzi Andiamo Ce la rischiamo Ah ok Va bene Che bello L'idea di trovare le scale La cosa fondamentale È il primo Trovere le scale Che è la maggior fase del tempo Non le trovi mai Ok Oddio Che è successo È uscito Prendelo Ho trovato il cosa Ho trovato il cosa Per il caffè No c'è torretta Torretta? Eh Attenzione Esci qua Intanto portalo via Quel cosa Vabbè Però ci starebbe C'è quello Hai detto Torretta? Si Oh Attenzione Dalla Che sta Ma che mi fate? Prende Vabbè No No Maronne Vabbè Evitiamolo di là Evitiamo di incontrare Torretta Cavolo Non dire Rischio No Scorda C'è un motore Aspettate Mi fate la luce qua Di sicuro morirò Cioè La faccio io Prova Oddio Che bello Allora il problema È tornare Di Doviela a tirare Grande Portiamoli fuori Portiamo già fuori Oh Vi dirò Ci abbiamo già un po' di roba Io inizio Che ne dite Portiamoli già Per sicurezza Io 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 sono fuori Anche il coso di Del caffè Vai Prendete queste due robe Eh Questa come cacchia Non ce la Non ce la fai a prenderlo No Lo prendiamo dopo Le cose più importanti Credo che sia queste Le cose del caffè Difficile Ah Devi essere Ok Dai Almeno siamo in zona Io guardo sempre in giro Non si sa mai Sto gioco è particolare Aspetta Dove è andato l'altro Ah è là Maron Dove state andando Signore Ah ok Là è Sì sì è là È là È là Ah ecco Il valute Bello Mi hai messo tutto Sì Come si lascia La roba G Grande Si riporte Sì Eh che bello Dai è carino È carino sto gioco Dai dopo tutto Sì ma ti fa venire 33 infatti Vabbè È un gioco Comunque tende all'horror Sennò che razza di gioco è Sì Parli con uno che gioca a fasmofobia E non riesce a giocarsi Se non sta in compagnia Cos'è a fasmofobia È un altro gioco Che si fa in co-op A tema fantasmi È assolutamente horror Oh cacchio Scaricata batteria Grande Allora O c'è un ragno enorme O c'è Un insetto Che è normale Allora Attenzione No qua c'è la torretta Qui c'è la torretta Dobbiamo Dobbiamo girarla Ma c'è la porta lì Aspetta È sempre Sta porca Ma è chiusa e aperta Sta porta È aperta Piano Non correre Non correre No no Adesso sì Il nostro amico È scomparso Qui non c'è niente Qui non c'è niente Cavolo Sì Ah Aiuto Ti fanno venire Trisca Mamma di canza Il nostro amico Dov'è? Non lo so Credo Forse Sta via No Via Via Esci Esci Ciao signori È tranquillo Non mi volevano Nemmeno ammattare Ah ah Sei sicuro Sì Mi ho ammattato sicuro Va bene Ma dov'è l'altro In tutto ciò Effettivamente Oh Oh È morto Perché vuole sicuro Perché Se no Si sarebbe sentito Ok Credo che Quel coso Quel coso Non lo so Però non mi ha fatto male Prima Era tipo Fermo Fermo Io 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 E allora Secondo me Non riesci a passare Le porte Ma proprio anche a me Eh No Quello lo apre Le porte Ah L'ha portato È scappato Quella È vivo È vivo Allora facciamo così Usciamo e ce ne torniamo direttamente Con senza batteri Sì Esatto Prima che viene la sera E anche se sta per farsi E poi Perché onestamente Non abbiamo batteria Aspetta Com'era di qua Ah ecco Ah di qua Ok Giusto Sì No Via 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 No No Chiudi la porta Chiudi la porta Chiudi la porta Chiudi la porta Ah di Ah 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 Mamma Mamma Mi sa che qui ti lazo Ok Che No ok sei partito Allora io ho visto un vermone Oh santo Scomparsa Eh mi ha mangiato il cagnolino Per strada mannaggia a lui Allora Dai poteva andare peggio Come si fa a ballare Questa cosa mi manca Non so se si fa così Vabbè c'è gente che Mette la musica like the movie Ah eccomi qua Sbagliavo tasto Parlavo da solo Fantastico Quanto era bello No avevo detto Com'è bello aver visto il vermone Mangiarti al volo Cioè col tuo Santo c'è Speriamo di non morire Beh ci è andata quasi di lusso Più che altro sei scappato malissimo Tu Io sì Io sono scappato C'era tipo il mostro A parte c'era il mostro all'entrata C'era l'entrattura c'era un mostro E perché mi sembra non mi ha caccato Se n'è andato da solo E' scappato da me il mostro E' un po' più una bambina Quindi stiamoci attenti verso la sera Perché ci sono brutte persone Brutte bestie Appunto Quindi passa giorni E' una figata con questa cosa E' ingrandita una zucca qui Due zucche Compenetrate Oh luce Fu Disse l'Enel Ah è diverso ragazzi Ma è diversa la struttura Ottimo Però è diversa la struttura Ma qua ci vuole tipo uno Che apre le porte Oh porca tu Scappa 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 C'era un mostro enorme Buc Faccio schifo a saltare Che è un mostro enorme Che è successo? No 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 Non è un mostro enorme Che ti manca Sì muro Il problema è che bisogna andare proprio verso Allora Via È stato bellissimo È scappata Mamma mia No io la devo conoscere No 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 Le cose A quanto Dobbiamo cambiare aria Dobbiamo cambiare aria Non c'è una fire exit Boh Chissà dove ha Eh Quelli si trovano da qualche parte Così a casa Oh porca Stanno ancora là Sta ancora là Sì Blocca la strada E allora dobbiamo spostarci E allora dobbiamo spostarci Prendiamo la roba E vedete di trovare un altro ingresso Aspettate eh È troppo a quello Sì volevo vedere se potevo usarlo Però va bene Io ragazzi mi butto Voi la strada la sapete? Sì Eh ok Seguite la mia voce C'è un problema Non c'era questo coso così Qua c'era? No c'era Ah ok Magari l'ho sempre ignorato Ok Seguite la mia candida Bellissima voce Sì che sono Sono solo uno Non sono più di uno Eh Ma il nostro amico? Eh Lui ha detto che si buttava Tipo Andare tra su Ah si buttava In quel Ok Penso che si vuole buttare In altri modi Sento il rumore è molesto Che è successo? Proprio Come è morto Sì è morto Guarda non si muore Beh se tu fa Si è buttato Eh Ah no si muove Si muove E' vivo Ah è stato all'ingresso Andiamo 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 Sì Modificano le aree Per ingannarci Stavo guardando Le zucche aggiunte Le zucche Vabbè ma forse Perché era Halloween E quindi hanno fatto Stavosa E' un poco tardi Vabbè E' sempre una casa piccola Che sta facendo Sto gioco Non è che No ragazzi Sta camperando Davanti all'entrata Un po' silenzio E allora niente E allora spostiamoci Spostiamoci altrove Cioè è da due No cane Oh sto schifo Umano Non di nuovo Chiro che l'ammaccio Abbassate Chiro che gli tiro 33 coltelli In faccia Trucco Non parlare Lo so Ok Ci sono Per exit Eh Non c'è più Ok Acceleriamo E via Oh Andiamo via Da sto postaccio Chiudo? Ok Sì Yes Grande Dai non c'è andata malissimo Di nuovo La cosa divertente Che mette anche L'altro giocatore Ancora Mette l'altro giocatore Mi mette ancora Che è successo? Che è successo? Eh perché non abbiamo Venduto gli ucci E' successo? Cosa? Cosa è successo? Cosa è successo? Aspetta mi sono perso che è successo che bisognava bisognava andare io non ho mai fatto la prima esperienza dai sì dai sarà una bella partita dai ragazzi ok bella grazie ancora allora se leggete il mio nome delta 28 ita caricherò questo video su youtube buona visione tranquilli tranquilli 28 mi riconosce che ho il casco da guerre stellari delta 28 ita paolo pavel sove tutto un nome strano mi riconoscerete dai dai che anzi era più esperto di tutti noi che c'era quindi lasciamo stare era più esperto bella buona serata buona serata ragazzi buona ok è andata è carino quando ti senti nelle serve dei ragazzi italiani ora vediamo se ci sarà un autoserver al prossimo video grazie a tutti